Anticipazioni terra amara, nel tranquillo paese, il sindaco, circondato dai suoi fedeli consiglieri, fa una comparsa pubblica. Con voce sicura, annuncia l'imminenza delle elezioni, dichiarando apertamente la sua candidatura per un secondo mandato. Rivolgendosi alla folla, chiede il sostegno dei cittadini, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra, al quale anche Lutfi, una presenza rispettata, si unirà. Con grazia, Lutfi promette di non tradire la fiducia dei suoi sostenitori, impegnandosi a favore della comunità di Cucurova, una terra che, nonostante non l'abbia vista nascere, ha conquistato il suo cuore. L'entusiasmo della gente si traduce in acclamazioni di affetto e fiducia, testimoniando l'amore che nutrono per lei. Nel frattempo, alla Villa Gaffur, una piccola impresa idraulica diventa l'occasione per ristabilire le relazioni. Gevrier, sorpreso dalla maestria di Gaffur nel riparare un tubo d'acqua, ravvisa il suo errore nel sottostimare le capacità del suo compagno. Con un gesto di umiltà, offre scuse sincere e un gesto di cortesia. Gaffur, con la sua consueta modestia, accetta il gesto con gratitudine, ribadendo la sua determinazione a dimostrare la propria abilità in qualsiasi situazione. Nel mentre, Zuleia, impegnata nelle sue faccende quotidiane, è interrotta da Vaap, il cui ardore amoroso la sconcerta. Nonostante le sue proteste, Vaap insiste, elogiandola con parole di affetto e ammirazione, ricordando notti insonni trascorse a contemplarla. Turbata dai ricordi di una presenza inquietante accanto a lei mentre dormiva, Zuleia si allontana, scossa dallo sconvolgimento interiore. Giunta in azienda, la sua agitazione non passa inosservata agli occhi vigili di Akan, che subito la interroga. La rivelazione della presenza di Vaap nella sua dimora scuote profondamente Akan, che reagisce con un silenzio carico di significato. Con un nodo di angoscia alla gola, Akan si allontana, lasciando Zuleia a confrontarsi con la propria inquietudine. Nel mentre, Vaap, nella confidenza di un barbiere e degli amici, rivela dettagli della sua vita passata, compresa una collaborazione in Libano con Akan Gumusoglu, riconoscendo il ruolo cruciale di quest'ultimo nella sua esistenza. La sua narrazione dipinge un ritratto ambiguo di Akan, riconoscendone la fama e la pericolosità nel mondo del contrabbando. Nel momento in cui Mehmet fa il suo ingresso, si avventa immediatamente su Vaap, afferrandolo per le spalle e cominciando a picchiarlo con ferocia. Con voce minacciosa, lo avverte che se si avvicinerà di nuovo a Zuleia, sarà la sua fine. Dopo che Akan si allontana, Vaap inizia a gridare che Mehmet è in combutta con Akan Gumusoglu, sostenendo che devono chiamare la polizia. Tuttavia, le sue parole cadono nel vuoto. ignorate ed erise da tutti, tranne che da Fikret, che ascolta attentamente. Nel frattempo, Betul apprende che Vaap, dopo essere stato malmenato da Mehmet, ha iniziato a diffondere accuse infondate riguardanti Mehmet e Akan Gumusoglu. Tuttavia, la sua storia non trova credito, poiché Vaap è noto per la sua instabilità mentale. Avendo trascorso del tempo in un ospedale psichiatrico, Betul, preoccupata, ritorna a casa e condivide le sue preoccupazioni con Sermin, incitandola ad agire prima che le false accuse prendano piede. Pertanto, Betul fotografa la foto incriminante di Demire Akan, mettendo una copia in una busta con un biglietto allegato. Assicura la madre che Mehmet non potrà sospettare di loro. Successivamente, Betul affida la lettera a una cassetta postale. La missiva destinata Akan arriva in ufficio, finendo sulla scrivania di Zuleya. La donna, avvertendo un profumo femminile proveniente dalla busta, si sente subito sospettosa e gelosa. Inizia ad aprirla, ma viene interrotta dall'arrivo di Akan, che afferra la lettera e la apre. Vedendo la foto, Zuleya, ignara del contenuto, chiede spiegazioni. Tuttavia, Akan, evasivo, le conferma che proviene da una donna ma rifiuta di approfondire. Le intima di non toccare più la sua posta e si allontana senza aggiungere altro. Mentre Akan si allontana per leggere la lettera anonima di Betul, Zuleya, rimasta sola, osserva con sospetto la busta e il suo contenuto. Terminata la lettura della lettera, Akan immediatamente sospetta che l'autrice sia a Betul. Nel frattempo, Kolak incontra Betul in paese e la invita in un elegante locale per discutere. Qui, Kolak inizia a corteggiarla, facendole molti complimenti e lasciando trasparire le sue intenzioni. Betul, irritata, respinge le sue avanze e ribadisce che tra loro può esserci solo una relazione professionale. Quindi se ne va. Kolak, non turbato dalla sua reazione, è sicuro che cederà. Nel frattempo, Kadir, venuto a conoscenza delle accuse di Vaap, si reca subito a casa sua. Tuttavia, Vaap, pentito delle sue parole, rifiuta di incontrarlo e non apre la porta. Kadir, dall'esterno, urla che hanno siglato la propria condanna a morte perché non conoscono il potere di Akan, Fikret, in compagnia di Cetin, racconta a quest'ultimo quanto detto da Vaap, ipotizzando che Mehmet potrebbe essere Akan e si trovi a Kukurova con l'intenzione di sposare Zuleya non per amore, ma per vendetta contro Demir. Decidono quindi di recarsi al ristorante di Kolak per parlare con Vaap, ma scoprono che è considerato pazzo e si è nascosto nella sua casa nel bosco dopo essere stato malmenato da Mehmet. Fikret e Cetin decidono comunque di incontrare Vaap e lo esortano a raccontare tutto ciò che sa sulla vera identità di Mehmet. Vaap, però, rivela di aver inventato tutto e di non credere che Mehmet sia Akan Gumuzoglu, aggiungendo che ha diffuso tali voci solo per il fastidio che Mehmet gli provoca. Infine, deride Fikret per aver creduto che il più grande contrabbandiere di armi al mondo si nasconda proprio a Kukurova, ma Fikret resta scettico. Betul ha confessato a Sermin il ricatto perpetrato contro Akan, ma la madre è preoccupata e la ammonisce riguardo alla pericolosità di ricattare un uomo potente, suggerendo che Akan potrebbe far vegliare sulla cassetta dove verranno depositati i soldi per scoprire la sua identità. Tuttavia, Betul ribatte che sceglierà il momento opportuno per riscuotere il denaro e poi partiranno per Istanbul. Sermin continua ad esprimere preoccupazione, ma Betul la rassicura, sostenendo che per Akan 5 milioni di lire turche sono una somma irrisoria e pagherà solo per evitare guai, dimenticandosi poi della questione. Quando Akan raggiunge Zuley alla villa, le consegna la busta che non le aveva mostrato in precedenza. Lei, non volendo più sapere del contenuto, la apre e vi trova una foto di lui con un'altra donna e una chiave. Akan le spiega che ha nascosto la lettera per non farla soffrire a causa di una relazione passata. Zuley, non turbata, ascolta la storia di Akan, che confessa di aver avuto una relazione con la figlia di un socio durante un viaggio a Beirut, ma ribadisce il suo amore solo per Zuley. Fikret è in ufficio con Cetin e sostiene che Mehmet Kara sia in realtà Akan Gumusoglu, nonostante l'apparente incompatibilità di Kukurova per il contrabbando d'armi. Decide quindi di scoprire la verità. Nel frattempo, Zuley chiede Akan di tradurre la lettera in arabo, che rivela il dolore di una donna per il suo trasferimento a Kukurova e il suo imminente matrimonio. Gelosa, Zuley fa molte domande a Akan, che risponde con calma, chiedendole solo di credere a lui. Prima di andarsene, le chiede di spiegare a Lutfi ciò che è accaduto, temendo che possa fraintenderlo. Quando torna a casa, Zuley trova Amin che sta leggendo la lettera in arabo e le chiede di rileggerla. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti Voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!